Ciao a tutti, torna da Lucky Master, a grande richiesta oggi ci sarà una Peerz o un London System, grazie alla richiesta di un carissimo amico che segue da molto tempo i passi del buon Lucky, partita di FI più 0, lasciamo fare al caso se avremo i pezzi bianchi o neri, un attimo di attesa, un po' di suspense, rullo di tamburi, 3, 2, 1, andata, abbiamo i pezzi neri e quindi qui nell'area avremo una C6. 2332 per il buon Lucky, attendiamo la prima mossa del nostro avversario di oggi, è B3, è qui, non avendo i bianchi non possiamo giocare in London, il bianco non gioca i quattro quindi la Carrocan diventa tosta, C6 lo stesso e vediamo cosa succede. Tra l'altro col bianco il buon Lucky si è ritrovato ad affrontare la Carrocan pianchettando il suo alfiere di donna in B2, questo pezzo è molto forte, sarà poi a noi cercare di contrastarlo nella maniera più opportuna. Qui il rapido sviluppo dei pezzi, alfiere F5, cavallo D7, poi cavallo G in F6 e così via. E6, alfiere E7, arrocco corto, questo più o meno è il setup che ha in testa il nostro eroe. Non brilla di originalità questo impianto per il nero, a ogni modo contro l'impianto del bianco sembra abbastanza funzionale e soprattutto ci richiede poco tempo, tant'è che 30 secondi siamo riusciti a portarli a casa come vantaggio e alla lunga in una rapid potrebbero fare comodo. Qui interessante anche H6 con l'idea di ritirare in H7 l'alfiere F5 evitando gli attacchi del cavallo in F3 che può zampare in H4. Vediamo come intende procedere il bianco che ha scelto di fatto un impianto a riccio. Qui non ci dà l'opportunità di ritirare il nostro alfiere in H7. Pazienza, lo ritiriamo in G6, mi aspetto un cavallo per G6 a cui segue subito la cattura di pedone H senza pensarci più di tanto. Adesso il bianco si trova con la coppia degli alfieri, in particolare l'alfiere E2 su case chiare. Si ritrova... no, 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 andiamo avanti, andiamo avanti, senza paura. Qui il bianco devo dire che si ritrova con l'alfiere in E2. Forse la richiesta di pazza è stata anche legata per tastare un po' il polso al nostro eroe. Qui potrebbe essere molesta la spinta in E5. Possiamo contrastarla, a nostra volta, con E5. Interessante. Andata. Il pedone E5 è difeso dal cavallo in D7. Possiamo provare a murare in qualche modo l'alfiere in B2 con la spinta in D4. Dobbiamo fare però i conti con la spinta liberatrice F4 del bianco. Quindi la partita si fa interessante. Qui abbiamo anche donna C7, torre AD8, torre F8 come possibile mossa a disposizione per il buon lucky. E qui cerchiamo di capire come intende procedere il nostro avversario, che in apertura, praticamente, ha proposto patta. Arriva subito F4. Come se non ci fosse un domani, ben volentieri sciogliamo la tensione al centro. Qui da valutare per il bianco anche la spinta in E5, che però non arriva. Ben volentieri continuiamo a sciogliere il ghiacciaio del centro con D per E4. E adesso qui di nuovo. Cavallo per E4. Liquidiamo la tensione. Cambiamo anche un po' di pezzi. Stile Drunk Master. Mi aspetto la ripresa di torre per evitare che il bianco abbia un pezone isolato in E4. Adesso qui dobbiamo capire come contrastare le velleità del nostro avversario. Visto che questo alfiere è veramente forte, io direi che alfiere F6 può essere una mossa ragionevole. E qui possiamo riprendere ben volentieri di cavallo, guadagnando un tempo, attaccando la torre. In E4. Vero è che il bianco si ritrova con l'alfiere contro il cavallo in una posizione in cui di fatto ci sono pedoni su ambo i lati, quindi l'alfiere gioca bene, però preferisce il buon lachi giocarsi un cavallo contro alfiere piuttosto che un cavallo alfiere contro due alfieri. I due alfieri sono più pignosi. Donna B6 scacco. Qui mi aspetto una semplice re H1 che è arrivata puntuale. E poi torre A in E8. Andiamo ad occupare l'unica colonna aperta con un nostro pezzo pesante. Sviluppiamo la torre di donna, visto che la torre F8 potrebbe risultarsi... Potrebbe essere utile nel difendere il pedone in F7, che infatti è sotto il fuoco incrociato dei pezzi avversari. E qui giochiamo la spontanea donna E3. Premiamo sulla torre in F4, ma soprattutto attacchiamo due volte con torre e donna l'alfiere in E2 che deve decidere un po' dove andare. Alfiere F3 sembrerebbe buona se non fosse per la cattura della torre in F4. Cosa può fare il bianco quindi in questa posizione? Alfiere D1 andrebbe un po' a tarpare le ali alla torre in A1. Torre F3 non si può giocare, non risolverebbe affatto il problema. C'è torre F2 che andrebbe a difendere l'alfiere in E2 e poi preparerebbe alfiere F3 premendo sui pedoni neri del lato di donna. Interessante la posizione che ne deriva. Io qui sinceramente sono tentato da cavallo B5. Questo cavallo è ben centralizzato e punta in qualche modo a sfruttare le debolezze delle case scure nello schieramento del bianco, come ad esempio la casa C3. Da notare che la casa D1 è interdetta per via della forte pressione che abbiamo sulla colonna E. Qui mi sembra naturale cavallo C3, tra l'altro si blocca il pedone in C2 e si attacca il pedone bianco in A2. Dopodiché possiamo anche continuare, si tiene anche d'occhio la casa E2, quindi evitiamo mosse fastidiose come torre E2, attaccando la nostra donna che si trova in una posizione ideale. E poi potremmo anche proseguire ad esempio con torre E7 e torre F in E8, aumentando la pressione sulla colonna E. Vantaggio di tempo per il buon Lucky, B4 qui ci piace, andata torre E7, qui tra l'altro si frena anche la spinta in B5, abbiamo questo cavallo che è veramente tentacolare. Donna E1 non è giocabile, semplicemente il bianco perderebbe materiale, questa torre in F2 di fatto preme su F7, ma non compensa assolutamente la debolezza della prima traversa del bianco. Vantaggio di tempo e iniziativa per il buon Lucky che si ritrova con un buon cavallo in C3, qui il nostro avversario tenta un'espansione. Sul lato di donna, qui l'idea credo che sia o A5 con idea di A6 o direttamente B5. Noi intanto continuiamo con la pressione lungo la colonna E. Su A5 da valutare anche cavallo B5, però poi ci sarebbe da analizzare C4, cavallo D4, ma giocabile. H3, ok. Adesso qui come possiamo aumentare ulteriormente la pressione? Questo cavallo qui ha svolto finora un lavoro egregio, però adesso bisogna fare qualcos'altro. Ora, visto che abbiamo addoppiato le torri, andiamo ad attaccare. Difendiamo il cavallo e andiamo a premere sul lato di donna, dove il bianco sembra un po' sguarnito a causa della presenza di buona parte delle sue forze sul lato di re. Tra l'altro adesso, no, c'era anche prima. No, non c'era prima. A che cosa mi sto riferendo? Alla minaccia cavallo per A4, torre per A4, torre 1 con infilata donna e re. E adesso però quello che sto valutando è giocare cavallo per A4, torre per A4, comunque torre E1 e poi sfruttare il fatto che la donna non ha vie di fuga, perché comunque è attaccata da una torre che controlla queste tre case. E poi la torre E1 controlla anche la casa E2, quindi dove se ne scappa la donna? Abbiamo tempo, valutiamola con calma, però a me sembra buona e in teoria dovremmo portarci a casa come minimo un ottimo pedone. Ma veramente ottimo. A me piace. Andata. Lucky Master sacrifica cavalli come se non ci fosse un domani. Cavallo per pedone A4. L'idea è, abbiamo detto, torre per A4, torre 1 attaccando e si spera intrappolando la donna nemica. Forse il bianco sta cercando di capire se è una svista o un sacrificio da non accettare. intanto qui con un pedoncino in più, mal che vada, ci riserviamo un finale superiore. Si fa sentire la debolezza delle case scure, prima C3 e poi E1, che sfruttiamo grazie al possesso della colonna aperta con i nostri pezzi pesanti ad una donna centralizzata. E qui il nostro avversario sente che c'è qualcosa che non va e quindi se ne guarda bene dall'accettare il dono in A4. Allora io qui direi, semplice, cavallo C3. Il pedone in A7 sotto l'attacco della torre A1 in realtà è di peso dalla donna centralizzata in D4. E il cavallo C3 si è sottratto alle grinfie della torre A1 e attaccava anche l'alfiere in E4 che si ritira in F3. E adesso qui ho questa mossa alla gioco volentieri. E' scomparso il pedone A4 e quindi si va a togliere forza assolutamente alla spinta in D5 che è controllata ben tre volte dalle forze nere. Non soltanto, ma adesso c'è anche il pedone in presa, il pedone in B4. Vediamo se c'è di meglio. Eh qui, questa mossa sembra interessante, però l'alfiere in F3 tiene d'occhio le importanti case. G2 e soprattutto E2. Molto semplicemente il buon lati cattura il pedone in B4. Da notare che la casa B1 è controllata dal fortissimo cavallo in C3 e quindi il bianco non può attaccare la donna e rifarsi eventualmente sul pedone in B7 che comunque rimane difeso dalla forte torre in E7. Visto la piega che hanno preso gli eventi, io direi la semplice. Ah, però c'è anche torre F4 attaccando, va bene. F5 come la vedete voi da casa? Ma tutto sommato non mi dispiace sinceramente. Counterplay, ci sbilanciamo, però diamo la possibilità alla torre in E7 di entrare in gioco, ad esempio attraverso le case E2 oppure E3. Questo ci costa un certo indebolimento, G6 scricchiola, però non sembra essere facilmente sfruttabile da parte del bianco, che si ritrova comunque con due pedoni in meno, è un re che comincia un po' a scricchiolare. Diciamo che la presenza delle forze nere si fanno sentire. Ora qui non c'è più torre F4 nell'aria e allora a questo punto donna D4, qui questa donna è centralizzata, è una meraviglia, si prepara anche cavallo D5 con l'idea, in caso di alfiere per D5, di riprendere di donna. Ok, seguiamo il nostro piano, anche il cavallo D5 è molto ben centralizzato, guardate che meraviglia, le due torri nere controllano l'unica colonna aperta. Cavallo D5 centralizzato controlla importanti case nere in questo momento, e la donna centralizzata è anche qui all'imbarazzo della scelta, sulle case che va a controllare. Qui potremmo riprendere di donna o di pedone, molto semplicemente riprendiamo di donna, in questo modo rimaniamo con un'unica isola pedonale ad ovest, la donna rimane comunque centralizzata, e qui possiamo giocare l'interessante donna D4. La minaccia molto semplice è donna per F2, donna per F2, torre E2, infilando la donna al re. Sarebbe un cambio di pezzi, però avendo molto più tempo, circa due minuti e due pedoni di vantaggio, direi che questo seguito sembra quello più semplice da portare avanti. Forziamo il cambio di una coppia di torri e della coppia delle donne. Attacchiamo con torre E3 due debolette del bianco, qui il nostro avversario cerca giustamente di rifarsi, ma noi cerchiamo di ostacolarlo in questo compito, adesso qui i pedoni di vantaggio sono tre, abbiamo circa due minuti in più, e ha meno di sviste particolari, quali ad esempio quelle di lasciare in presa la nostra torre, direi che possiamo essere fiduciosi su questa partita. Qui accettiamo anche il raddoppio dei pedoni sulla colonna C, pur di cambiare le torri, ovviamente il bianco non ha queste intenzioni, guadagniamo un po' di tempo sull'orologio, e qui, matto di torre sulla scacchiera con l'avversario che è appena entrato in Zeitnot sotto il minuto, andiamo ben volentieri a vedere l'analisi di questa partita. Ah, importante, mi rivolgo allo spettatore che mi dice sempre come mai si pubblicano partite vinte, andate sul mio profilo, andate a vedere quelle che effettivamente ho vinte e che ho perso. Ne ho vinte tante, ne ho perse tantissimo, effettivamente ho pubblicato finora quasi sempre quelle vinte con qualche patta, va bene, però effettivamente in questo periodo dove sarei anche propenso a condividere le sconfitte del Bollati, devo dire che la sorte gli sorride e quindi qualche altro piccolo punticino lo sta facendo. Chiuda questa parentesi, mi rivolgo con affetto a tutti quanti, partiamo subito con l'analisi di questa partita. Qui finora sembra tutto regolare, viaggiamo sul filo della valutazione dello zero assoluto, qui forse per impedire cavallo H4 dovevamo giocare subito H6, da ricordarcelo in futuro. C'è da dire che comunque il cambio dei pezzi, anche se magari non è il seguito migliore per il motore, al buon lato piace, è molto incline a quelle che sono le sue abitudini scacchistiche. E qui, torre per F4 non quaglia, anche io mi aspettavo di più 1,5. Torre per F4 ci dà un vantaggio robusto, che in realtà potevamo sfruttare subito con alfiere D6, ma abbiamo preferito il cambio. Cavallo per E4, ok, torre per E4. Anche qui avremmo dovuto continuare subito con cavallo F6, mantenendo i pezzi in gioco e poi magari, chissà, minacciare al momento debito un cavallo F6, donna B6, alfiere C5 e così via. Qui il buon lato ha preferito contrastare subito il forte alfiere in B2. Qui il motore suggerisce semplicemente B4, mantenendo in vita l'alfiere B2 che controlla importanti case scure. Così non è stato. Cambio, cambio, e qui anziché torre C4, mossa non facile per un umano, il bianco ritorna in F4 e qui avevamo l'ottima risorsa a cavallo D5 che avrebbe sfruttato la debolezza delle case scure. Siamo stati tentati dallo sviluppo della donna con guadagno di tempo. Visto che il cavallo era già sviluppato e la donna no, abbiamo preferito sviluppare la donna. Questi sono ragionamenti tipicamente umani o comunque tipici del buon lato, il motore sappiamo come la pesa. Per fortuna che il nostro avversario punta alla pressione su F7, ma in realtà questo ci lascia un robustissimo vantaggio. Di nuovo cavallo D5 era la migliore secondo il motore, anche donna E3 non è male. Qui però sciupiamo buona parte del nostro vantaggio dovevamo giocare assolutamente G5, con l'idea in certe varianti di avanzare ulteriormente questo pedone, liberarci della debolezza costituita dal raddoppio dei pedoni sulla colonna G ed eventualmente attaccare anche la barriera dei pedoni di fronte al re avversario. Cavallo D5, la mossa è buona ma arriva al momento sbagliato, altiere F3, leggero vantaggio per il nerd, qui il motore consiglia cavallo C7, valuta cavallo C7 ma anche C3 va più cambina, B4 non piace, si creano delle debolezze non da poco, qui il motore consiglia donna D4, qui abbiamo preferito invece la solida torre E7, da notare come si difendano due punti importanti nello schieramento nel nero e si liberi la casa E8 alla torre F8. A4 di nuovo non piace al motore, preferibile donna D1 anche se andare ad incastonare all'angolino della scacchiera la donna non è facile per un umano, torre F8, robusto vantaggio del nero, donna D4 ha il benestare del motore, RH2 meno 3,5 e qui noi abbiamo giocato cavallo A4 anche se secondo il motore la semplice donna B4 era ottima e abbondante, in realtà anche cavallo in A4 ha il suo fascino, devo dire, la buttiamo sulla tattica ogni tanto, alfiere E4 meno 4, cavallo C3 qui ormai il vantaggio del nero di Laga e lo mantiene salvo alla trentesima mossa, sopra i quattro punti qui ormai le mose del buon Laki sono molto semplici e spontanee da giocare, anche qui abbiamo il cambio in D5, nulla di nuovo sotto il sole, da notare che donna F2 non piace al motore, il quale suggerisce torre E3 subito, premendo sul debole pedone in D3, ma noi qui con due pedoni in più, potendo cambiare bene quattro pezzi pesanti, tra quelli bianchi e neri, ben volentieri, ci rifacciamo subito dopo, ma avendo alleggerito la posizione, e qui vediamo come tutto sommato la scelta del nero si riveli molto molto efficace, qui prendiamo un po' di tempo, il vantaggio è immenso, il bianco prova a pescare nel torbido, ma qui anziché resistere ad esempio con Re P3 o Re 3, scelta che comunque non avrebbe salvato il bianco, questi due pedoni sostenuti dalla torre, sono veramente inarrestabili, il nostro avversario con 59 secondi mette il piede in fallo, e pertanto si becca il masco. Andiamo a vedere la valutazione del motore, Nimzo Larsen, e qui vediamo che il nostro avversario ha giocato con un'accuratezza dell'88%, mentre noi siamo stati sopra il 90%. Devo dire che ci riteniamo soddisfatti, l'unico errore è stato commesso alla ventesima mossa, errore considerato tale dal motore, quando anziché spingere il pedone in G5, che effettivamente mi sembra una buona mossa, abbiamo preferito centralizzare il cavallo in D5, lasciando inalterata la nostra struttura pedonale. A ogni modo, che dirvi? Ormai lo sapete meglio di me. Spero che la partita vi sia piaciuta. Like, canale, campanellina, contatti, un saluto a tutti, statemi bene, felice sabato e alla prossima! ma statemi bene! Ciao, ciao! Fantastico, 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 fantastico! Incredibile! Eh vabbè!